All'interno del Cassero Senese le casette cinquecentesche e un'altra parte del Cassero sono ufficialmente aperte da questo momento grazie ad un'opera di restauro che è stata finanziata a fondo perduto dalla Fondazione Monte dei Paschi. Una opera che ha restituito alla città dei locali che per un breve periodo sono stati occupati dal polo universitario grossetano ma che poi sono stati a lungo chiusi e non vissuti. Un restauro bello, architettonicamente impegnativo ma che ha restituito una parte di quello splendido Cassero alla vivibilità dei grossetani. Un'altra gemma che viene ad incastonarsi nel gioiello delle Mura Medici e quest'oggi le casette cinquecentesche si aprono ufficialmente al pubblico con una mostra splendida, sindaco, soddisfazione immagino. Sì, ma noi abbiamo preso l'impegno di rendere fruibili le Mura in tutti i suoi aspetti alla cittadinanza e ai turisti. Quindi questo è naturalmente un altro passaggio, un altro tassello e continueremo in questo senso. Una soddisfazione che è dimostrata anche dall'afflusso di pubblico per questa mostra della città visibile di cui è stato fatto anche un volume. Sì, senz'altro il volume è molto importante perché raccoglie un po' tutte le ricchezze della nostra città. Quindi di conseguenza vogliamo offrire ai grossetani, non solo, anche aspetti che tante volte non focalizziamo, che ci sfuggono e che sono veramente un bel patrimonio per Grosseto. Assessore Stellini, il sorriso arriva largo, è comprensibile? Ma è stato un bel lavoro. Devo dire che da un punto di vista economico nemmeno particolarmente oneroso, da un punto di vista proprio intellettuale e pratico, grazie a tutti i collaboratori che qui si sono riuniti per avere una visione anche di questo luogo, che è stato un lavoro importante, che mette insieme il cassero, le casette, l'area esterna di spettacoli con funzioni diverse. E questo è l'obiettivo, rifunzionalizzare e ricreare un legame fra la città, i cittadini e i luoghi che conoscono, però magari sono abituati a passare davanti e non ad assaporarli. Diciamo che per molti, troppi anni, sono stati luoghi non vissuti dalla cittadinanza. Assolutamente, quindi è un onore quello di raggiungere questo obiettivo e è un dovere morale quello di raggiungerlo, però ogni volta che si aggiunge un tassello è indubbiamente anche una grande soddisfazione.